Oggi è toccato agli alunni di Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il 7 settembre avevano anticipato tutti quelli del Trentino Alto Adige. Domani sarà invece la volta degli studenti della nostra regione, oltre che di quelli laziali e toscani. A chiudere poi il calendario del debutto dell'anno scolastico 2015-2016 saranno Veneti e Pugliesi mercoledì. A Parma la campanella suonerà domani per circa 50.000 alunni tra città e provincia. Primo giorno di scuola in particolare per 14.000 alunni di istituti di primarie e secondarie di primo grado di Parma, comprese le scuole private paritarie. Sarà un anno molto particolare, forse di transizione comunque diverso. La buona scuola della riforma Renzi-Giannini è tutta da costruire. Ci sono tante novità, quasi nessuna, però ancora a pieno regime. A partire dalle assunzioni, per il momento ancora a metà. Se gli istituti avranno subito i fondi di funzionamento, mancano però gli insegnanti per il potenziamento. Se la valutazione dei docenti e l'alternanza scuola-lavoro sono già realtà, le polemiche sui comitati interni e l'assenza di indicazioni pratiche rischiano di rallentare la partenza di due punti cardine della riforma. E con in aggiunta la solita carenza di presidi, chiamati a funzioni sempre più rilevanti e docenti di sostegno. Così l'anno scolastico comincia senza troppe certezze. A Parma l'inizio dello stesso anno scolastico coincide anche con una novità di natura viabilistica. Il Comune ha approvato infatti in via definitiva la chiusura per l'ingresso scolastico di Viale Maria Luigia. La strada sarà off-limits al traffico dalle 7.40 alle 8.10, dal lunedì al sabato. Nel solo tratto di Piazzale Ronda, Niantistante e la Scuola Parmigianino, resta confermata anche la chiusura dalle 12.55 alle 13.30, in vigore da oltre un decennio. L'accesso sarà consentito soltanto a pochi automezzi di insegnanti e personale scolastico, con spazio per la sosta all'interno dei cortili degli istituti, oltre ovviamente ai servizi di emergenza, ai disabili muniti di autorizzazione e ai veicoli che trasportano studenti in condizioni di disabilità temporanea. Il provvedimento è stato adottato in accordo con i dirigenti scolastici a seguito della positiva sperimentazione attuata dal 20 aprile scorso.